Il nuovo presidente della provincia di Teramo è Renzo Di Sabatino. Il capogruppo uscente della minoranza provinciale è stato eletto da sindaci, assessori e consiglieri comunali della provincia di Teramo. È stato preferito al diretto e unico avversario in questa competizione di secondo livello, il sindaco di Atri, Gabriella Stolfi. No, non in attesa in relazione a quella che è stata questa campagna elettorale. È evidente però che i numeri di partenza non erano favorevoli al centro-sinistra. Semiracuota in meno. Sì, avevamo 6.000 quote in meno, soprattutto eravamo sotto nei comuni grandi da Teramo a quelli di fascia B. Ho visto che invece abbiamo recuperato abbastanza bene sia a Teramo che in quei comuni medio-grandi. Cosa l'ha premiata secondo lei tra gli amministratori teramani? Il fatto che io ho parlato al territorio e ho parlato ai sindaci. E a proposito di quote spunta il caso Teramo. I conteggi infatti svelano che a votare Renzo Di Zabatino, oltre ai nove consiglieri di minoranza tra Partito Democratico e liste civiche, sono stati anche due consiglieri comunali del centro-destra, due della maggioranza del sindaco forzista Maurizio Brucchi. Ed essendo Teramo il comune decisivo in termini di voto ponderato, arriva la vittoria di Di Zabatino. Ad essere sincero mi aspettavo qualcosa in più. Però va bene lo stesso. Dati a parte, resta adesso l'obbligo per Di Zabatino di guidare la nuova provincia. La mia nuova provincia sarà una provincia in cui i sindaci riprenderanno quella dignità che hanno perso. Sarà un luogo in cui i comuni del territorio potranno sentirsi finalmente a casa loro.